Eccoci qua insieme a due formidabili cicliste e allora un'intervistina? No, a me no, magari no. Ma come no? Allora Lara Scarcelli, come ti giri Lara Scarcelli? Non sia sempre timida. Allora, quest'anno obiettivi del 2022? Non ho obiettivi... Maglia azzurra? Magari. E da quest'altra parte invece? Riuscire a finirle, dai. Nooo, ma come? Sì, sì. Io so però che lei si sta preparando alla grande e che farà una grande stagione. Spero di farlo. Quindi, quante vittorie? No, vittorie no, però magari non so vinto. Spero di aiutare la squadra. Ma ho vittocerà anche il tuo papo, se ti sentiva lì, vittorie no. Diggi se è migliore a cronomi. Devo lavorare per la squadra. No, lei va forte, vanno forte tutte e due, vanno forte tutte e due, ci si aspetta una grande stagione, bocca al dupo. Grazie, ciao. E poi ecco, i giorni...